Una notizia inaspettata ha recentemente scosso il pubblico e ha suscitato grande agitazione tra gli appassionati del programma Ore 14. Milo Infante, il popolare conduttore del programma Sorai 2, potrebbe trovarsi di fronte a un importante cambiamento che ha generato discussioni e proteste tra gli spettatori. Benvenuti su Febbre da Gossip. Prima di scoprire tutti i dettagli e addentrarci in questa notizia, ti vogliamo ricordare di iscriverti, mettere un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti nel mondo del gossip. Infante è noto per la sua carismatica conduzione di Ore 14, un appuntamento quotidiano che cattura il pubblico dalle 14.05 alle 15.25. Tuttavia, secondo le voci che circolano nel mondo della televisione italiana, una decisione della Rai potrebbe ridurre drasticamente il tempo a disposizione di Infante nel suo amato show, questa mossa potrebbe causare irritazione e persino proteste da parte del conduttore e dei suoi fan. Il giornalista Giuseppe Candela, noto per le sue informazioni di prima mano, ha rivelato questa notizia sorprendente riguardante Milo Infante e Ore 14. Sul social network di Elon Musk, Candela ha scritto, clamoroso. Voci di corridoio suggeriscono una riduzione di Ore 14 a soli 50 minuti. Gli ascolti troppo alti di Infante sembrano dare fastidio, e questa potrebbe essere una mossa per aiutare Rai 1, che sta attraversando un periodo difficile. Questa decisione sembra sorprendente, considerando che gli ascolti di Milo Infante sono costantemente positivi. La domanda che molti si pongono è, perché cambiare qualcosa che funziona così bene? Alcuni suggeriscono che questa mossa potrebbe essere un tentativo di sostenere il programma in difficoltà di Caterina Balivo su Rai 1. Tuttavia, ciò non sembra giusto nei confronti di Milo Infante, che sta superando le aspettative con il suo show. Le reazioni del pubblico non si sono fatte attendere, con numerosi telespettatori che esprimono il loro dissenso sui social network. Alcuni commenti riflettono la frustrazione dei fan, definendo questa possibile decisione vergognosa e una mancanza di rispetto. Si chiedono perché non chiudere, in modo più intelligente, il programma di Caterina Balivo. Il destino di Milo Infante e del suo amatore 14 è ancora incerto, ma una cosa è certa, questa notizia sta scuotendo il mondo della televisione italiana, e il pubblico è pronto a difendere il suo conduttore preferito. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se la Rai ascolterà le voci del suo pubblico affezionato. Non dimenticate di lasciare un commento alla fine del video e di seguirci per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito, a presto con un nuovo video.